Oggi inizio questo video in maniera diversa rispetto al solito, autospammando anche gli altri canali che ho qui su YouTube dove vado a pubblicare contenuti di tipologia diversa e anche il canale Twitch dove questi contenuti vengono creati e vengono poi esportati con dei taglietti. Quindi date a seguire il mio secondo e il terzo canale, trovate i link in descrizione e ovviamente nell'home page del canale YouTube. Tra l'altro proprio questa mattina siamo andati live con un'altra diretta sul canale Twitch e vi aspetto invece oggi pomeriggio per guardare insieme la Juventus dato che ormai abbiamo questa spada di Damocle legata al sabato pomeriggio alle ore 18 dove scendono in campo i nostri beniamini. Non mancate a questi appuntamenti, iscrivetevi, mettete la campanellina a tutto e un mi piace a questo video, poi andate pure a commentarlo. Di partita faccio fatica a parlarvi in questo video dell'immediato pre-partita perché ieri Tiago Motta ha rivelato la formazione, noi ci prendiamo questo spazio solitamente per cercare di giocare, di capire le probabili formazioni eccetera eccetera, a meno che Tiago Motta non abbia trollato tutti, me compreso, giornalisti compresi, anche se io ho una piccola possibilità di troll di Tiago Motta nei confronti della comunicazione me lo tengo perché mi sembra veramente folle che un allenatore vada a dire 11 titolari su 11 in conferenza stampa andando a agevolare anche quelli che saranno ovviamente le contromosse dell'allenatore dall'altra parte, quindi in questo caso Gillardino, però io non posso fare altro che oggi in questo istante attenermi alle parole di Tiago Motta in conferenza stampa, lungi da me dargli del bugiardo, avremo la prova del 9 proprio oggi pomeriggio, però abbiamo tra virgolette una piccola notizia perché sappiamo che prima di queste partite di Champions Tiago Motta cambia il portiere, era stato così già nella partita precedente con Perin che va a prendersi i pali di questa Juventus, ma questa volta il turnover è più massiccio, perlomeno nelle zone del campo più difensive, invece lì davanti Tiago Motta cerca la continuità di questi giocatori, io spero che possa cambiare anche qualcosa al punto di vista della fase difensiva della Juve perché oggi la sensazione netta è che la Juve cambia soltanto se cambia l'avversario, traduco, se l'avversario lascia spazi allora la Juve può fare una grande fase offensiva, se l'avversario questi spazi non li lascia allora la Juve va in difficoltà. Spero che questa sia soltanto un'osservazione preliminare di queste prime gare di campionato perché sennò diventa un problema, nel caso spero che la Juve possa prenderle adeguate contromosse per riuscire a fare una partita importante perché la Juve viene a tre pareggi di fila, sì, e questo non è tanto il problema quanto più che viene a tre pareggi di fila per 0-0 e con poche occasioni da gol create, quindi questa secondo me è la cosa principale da prendere in considerazione. Però abbiamo anche un'altra notizia e cioè che si giocherà ufficialmente a porte chiuse questa gara. Ne ho già parlato ieri dello scandalo, l'ho definita veramente una stronzata e credo che non ci siano altri modi di definire questa decisione. Paradossalmente per la Juve, inteso soltanto come campo, può essere un vantaggio perché sappiamo che Malassi è storicamente uno stadio molto molto caldo e nelle ultime stagioni la Juve sta facendo fatica a raccogliere punti. È difficile vedere le ultime, le ultime, perché comunque è uno score abbastanza positivo in generale a Malassi, ma nelle ultime annate la Juventus quando andava a affrontare questa partita difficilmente usciva con i tre punti. Ecco, io credo che ora i tre punti siano necessari per la Juventus, sia in chiave classifica, ha vinto anche il Milan ieri, quindi attenzione che il Milan va a rilanciarsi anche ai piani alti della classifica di Serie A, ma quanto più per darsi una scossa personale interiore, perché, ripeto, va bene i tre pareggi, vadano i tre pareggi, ma tre pareggi per 0-0 consecutivi possono diventare un problema e possono creare delle discussioni che possono togliere delle energie a questa Juve. Quindi la Juve oggi ha una missione. Tre punti e ritrovare la fase offensiva. Questa è la missione di oggi della Juve. Perché poi in Champions col PSV, per dire, è andata bene, abbiamo segnato tre gol, vedremo se riusciremo a fare bene comunque in Champions, perché siamo partiti bene, ma dobbiamo dare continuità a questa cosa. Ma oggi, oggi, a differenza dell'altra partita mi pare che fosse con l'Empoli, ho in testa principalmente Genoa-Juventus. Perché l'altra volta dicevo, sono già proiettato la Champions, mi manca, eccetera, eccetera. No, adesso sono concentrato qui, perché la Serie A non è da sottovalutare, non deve scapparci via la Serie A, non deve scapparci via una valutazione positiva di questa Juve che oggi, giustamente, mette il punto sulla fase offensiva. Sarebbe bellissimo vedere due o tre gol di Vlaovic. Vado a esagerare, sì, certo, però sarebbe bello vederlo ritrovare fiducia nei propri mezzi, nelle proprie capacità e, ovviamente, nuovamente marcatore sul cartellino. Dobbiamo recuperare Dusan Vlaovic dal punto di vista mentale. Anche lui l'altro giorno ha detto, quando le cose in campo non vanno come voglio, iniziano ad agitarmi. Ecco, noi invece vogliamo vedere Vlaovic segnare, vogliamo vederlo fare le cose che gli riescono, non vogliamo vederlo agitato, vogliamo vederlo sereno, perché è un patrimonio di questa Juventus. E non è una frase banale quella che ho detto. L'ho, tra virgolette, rubata a Cristiano Giuntoli, perché ieri c'è stata un'intervista di Cristiano Giuntoli pubblicata sul Corriere della Sera. L'ho letta interamente. È stata un'intervista, secondo me, anche molto interessante, dove Giuntoli ha anticipato alcune cose, tra l'altro. Però ci arriviamo. Uno dei passaggi principali che mi è piaciuto è quello in cui gli dicono, ma lei è uno che racconta bugie? E lui risponde, testuali parole, no, io non racconto bugie o metto. E se lo faccio sono bugie bianche. E se lo faccio è perché un calciatore che ha già deciso di andar via mente a sua volta e quindi io lo capisco e sto al gioco. In quest'estate avevamo fatto un video intitolato Aggiuntoli non ci credo è mister bugia. Oggi gli chiedono se mente, lui dice assolutamente no e poi dice sì, però se mento lo faccio con delle bugie bianche. Quindi si conferma il nickname, lo pseudonimo Cristiano Giuntoli, Alsoknov Has, facciamo H perché il mio inglese è terrificante, mister bugia. E lo è. È così. È un dato di fatto. Mi ha fatto sorridere. Più tanti passaggi su Tiago Motta, sulla Juventus, sui giocatori che sono andati via, ma uno in particolare ha anticipato quella che poi è stata la notizia di ieri sera. E cioè il rosso di bilancio della Juventus è stato ufficializzato dal CDA. La Juventus chiude questa sessione con perdite pari a 199.2 milioni di euro, quindi praticamente 200 milioni di euro, un risultato che è peggiorato rispetto all'ultimo bilancio. E io qua già ho visto, mamma mia quante ne ho viste, quante cose ho letto, quante cose ho sentito. L'ho fatto anche un po' col sorriso sulle labbra, perché ormai si è abituati a guardare il numerino. Stop. Non andare nel dettaglio, cercare di capire perché. La Juventus ha avuto meno introiti generati da sponsor e da partite. E quindi è peggiorato quel bilancio. Questi introiti derivano banalmente dalla partecipazione alla Champions League, quindi meno partite perché non c'era la Champions League. c'era bisogno di saperlo dal bilancio? Cioè questa cosa davvero non la sapevamo prima? Che la Juventus non aveva giocato la Champions League e che quindi aveva avuto meno entrate? No, perché se è così siamo caduti dal pero. Abbiamo dormito per una stagione intera. Più altre cose come l'esonero dell'allenatore, delle cose interne alla Juve. sappiamo che ci sono stati tanti problemi per la Juve dal punto di vista legale nell'ultimo anno. Quindi mi sembra veramente essere caduti dal pero. La Juventus ha vissuto un anno e mezzo fa una stagione folle in cui del campo non si è parlato. Nell'ultima stagione non si è giocata una competizione che si era invece guadagnata sul campo. Quindi queste cose sono note, fanno parte della cronaca. Non esserne al corrente mi è sembrato folle. Ma guarda caso non si parla della cosa più importante che aveva già anticipato Giuntoli sul Corriere della Sera. E cioè che i costi di gestione sono diminuiti e anche di tanto. E lo stesso Giuntoli che sul Corriere della Sera praticamente ha la prima domanda, è la prima cosa che dice Giuntoli e qui mi viene da pensare perché proprio adesso Giuntoli ha parlato? E perché è partito proprio da lì? 2 più 2 fa 4. Lo sappiamo tutti. Giuntoli ha detto ok, ti rilascio questa intervista, tra l'altro al Corriere della Sera che non è prettamente un giornale sportivo, per iniziare a raccontare quello che sarebbe stato. Dicendo, prima qui c'erano giocatori che guadagnavano 13 milioni di euro lordi, ora invece andiamo a comprare un giocatore a 10 milioni di cartellino che guadagna un quinto. Quindi è ovvio che questo si traduca in un risparmio. L'obiettivo della Juventus, come dice Giuntoli, è arrivare poi a un pareggio di bilancio. Si poteva arrivare in questa sessione di mercato? Beh, sarebbe stato un disastro dal punto di vista economico e dal punto di vista tecnico. Perché se tu vai a cambiare allenatore, vai a prendere un determinato allenatore e Giuntoli dice che c'erano tanti club su Tiago Motta perché aveva fatto bene e noi abbiamo giocato in anticipo, abbiamo giocato le nostre carte. Le nostre carte banalmente è cercare di riconoscere all'allenatore una squadra con cui possa essere in confidenza dal punto di vista tattico. Quindi voi immaginatevi, la Juventus, cambio allenatore per necessità sportive, perché è arrivato un nuovo direttore sportivo, perché si è concluso un ciclo, perché Tiago Motta è interessante per mille ragioni differenti e poi gli dice, Tiago, però noi abbiamo 173 milioni di rosso, quindi non ti facciamo mercato, anzi andiamo a venderti tutti i giocatori e con quelli che riusciamo a prendere sul mercato a due spicci ti devi arrangiare. Lo firmi Tiago Motta in questo caso sì o no? Non dimentichiamoci che la Juventus è una società sportiva, in primis. La Juventus, come principale caratteristica, ha di fare delle ottime stagioni dal punto di vista sportivo. Poi è ovvio che l'intreccio economico deve esserci, è normale che sia così, ma si è cercato di arrivare a un intreccio economico e sportivo in cui in questo primo anno, per via di deficit, chiamiamoli così, che non fanno parte della Juve attuale, di Giuntoli, di Tiago Motta, cioè la Juve non gioca le coppe prima dell'arrivo di Giuntoli e Tiago Motta, Giuntoli secondo me ha fatto un capolavoro in sede di mercato andando a cedere dei giocatori che, dal punto di vista sportivo, dal punto di vista economico, dal punto di vista contrattuale, stavano iniziando a diventare delle problematiche per la Juventus e è andato a prendere dei giocatori importanti che avevano comunque dei benefit. Basti pensare a Nico Gonzalez che aveva il decreto crescita, a Cobb Mainers con il decreto crescita, eccetera, eccetera. Si sono pagati questi soldi? Sì. Come al solito non li paghi tutti nella stessa sessione di mercato. Quindi questo debito, questo rosso, è aumentato sì, ma la Juventus, dal punto di vista dei costi annui, che è una delle voci più importanti e impattanti all'interno di un bilancio, la Juventus è andata in calo, è andata a togliere circa 30 milioni di costi netti annui. E questa è una unità super positiva. Quando arriverà questo famoso pareggio di bilancio? Lo vedremo, la Juventus comunque si è data intorno a 2025, 26, 27 di tirare le somme definitive e quindi continuando a diminuire i costi fissi e dei costi folli che ci sono alla Juventus. L'altro giorno vi parlavo di Dusan Vlaovic, che è un problema non solo in campo ma anche fuori dal campo. Ecco, la Juve dovrà intervenire pure lì. La Juventus ha margine di manovra per migliorare anche quella roba lì. Non ci saranno più dei contratti che si autorinnovano, ha delle cifre elevatissime. Perché non sta giocando Danilo? Sembra che nel contratto abbia quella famosa clausola come aveva Czesni, come aveva Alessandro, se raggiungi determinate presenze allora te la rinnovano automatico. La Juventus ha volontà di rinnovare Danilo a quelle cifre lì? Sì o no? Magari vuole trattare con Danilo, vuole rinegoziare con Danilo quelle cifre che guadagni, che guadagnavi, che ti hanno promesso quando sei arrivato ed era la Juventus di Ronaldo. Oggi non sono più sostenibile, a maggior ragione, per un giocatore che ha superato i 30 anni. Perché Danilo è più vecchio di me e quindi avrà 33 anni, 34 anni quando andrà a rinnovare il contratto. Non significa che voglia buttarvi a Danilo, però magari gli dice sì, rimani con un altro ruolo dove non sarai titolare, sarai il capitano quando giocherai, ma quelle cifre no. Quindi capite bene che è un mix, è un misto discorso sportivo e discorso economico. Però far passare il fatto che la Juventus ha aumentato il debito, ecco sono fregati, ragazzi perdonatemi, ma qui non si ha per nulla cognizione di causa e di quello che sta accadendo. Questo è stato un video diverso, un po' particolare, perché non abbiamo parlato di calcio e sapete bene che quello è il mio pane quotidiano, quello però lo faremo nel pomeriggio, meno male, dato che gioca la Juventus. Amarassi a porte chiuse. Vedremo cosa succederà. Ciao.